gilbert nana entra in live dal rosso mentre lui a parigi con virginia il fubbe alza le mani 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 se anche stasera si piccola il cerchiettino anzi pochettino poco di più di più gilbert ha fatto caso che cazzo vuoi è un po un robot che cazzo vuoi che cazzo vuoi che cazzo vuoi che cazzo vuoi hai fatto caso porta rispetto può conoscere rispetto si è andato a parigi mi ha lasciato qui e adesso mi guardi che cazzo vuoi effetti lui lui parlava francese no e e e e e e potevi portare pure lui se parla francese gilbert io ci aspetto io ci aspetto quando ritorno qui ci donerà le schiaff le schiaff for è finito il loop è infinito adesso ci aspetto qui c'è anche quella di come fareci poi stanno avanti per due anni quella degli schiaffi per due anni mi fai chiaro raggiunto che lo vedo ragazzi gilbert ha 9 mila abbonamenti e andando ai vicini in live earl che ci hanno appena rotto il cazzo che cazzo fai perché parla il piano e perché ci sono i vicini che rompono il cazzo che cazzo parli forte ma come parli forte ma ci sente ci senti gilbert non senti il cazzo bro ti fai il piano bro senti in caso gilbert mi senti no bro premi il croco gilbert oh gilbert mi senti mi senti gilbert un po' si gilbert vicino il tasto di sblocco ci sono due levette se una la premi alza il volume dove lo sapevo io che stavi ancora lì stavi praticamente a sinistra a sinistra del telefono tu premi il pulsante magia c'è micro bro c'è solo micro micro ma che telefono hai che telefono hai gilbert cristo io ho l'iphone bro è poco di cazzo a sinistra del telefono ci sono due levette il volume lo sinistra è di qui proprio non c'è cazzo del volume non c'è cazzo devi metterlo verticale gilbert così è normale che a sinistra non c'è un cazzo gilbert nana non molla mai non c'è cazzo gilbert nana non c'è cazzo di dove lascia il volume che forco qui ci sbattono fuori adesso ci sbattono non c'è cazzo dov'entrare nessun vento oltre me a te te lo ricordi dopo la livello riesco no non hai capito se questo arriva adesso e busso e vedi che sono l'orduccia sta roba qua ci sbatte fuori dormiamo veramente su tutti i ponti Sì Loro si nasconde in bagno E ma lei semmo nudi cosi non può intrare Villati No vado in io Vado in io Dai ma è sc소pondo È un sacrificio Vado in io È un sacrificio Allora casino Sarelo ai vicini ok Io hai Onore Sotto il cavolo e lei con Scusami Vado in jean Zitto Non capisci Zitto Tu mi hai l français in bagno Lasciamo solo Jimmy oh mio frate, tu sei pari? tu sei pari? tu sei pari? si ma tu arrivi a pari canto? canto? non, con cortois ma tu sei pari, tu me laississi in Italia si, 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 si si tu sei pari? tu sei pari? è la mentalità della prima volta? la prima volta la prima volta? io ci aspetto qui, guardi i miei diti ci aspetto si, ti aspetta però dove? dove? qui in Italia, ci aspetta qui cosa fa? ci aspetta cosa fai? come fare zì? zì come fare il grosso plasuel basta specchiarti Virginia cioè ha fatto gaso no non ha fatto gaso perché? tesoro ha fatto gaso tesoro si è di fa sempre non ce la faccio capisco ragazzi avete capisco avete capisco? è così cazzo da fare che cazzo da fare? ma Gilbert è impazzito come c'è Gilbert? Gilbert? le pulizioni arrivo la pulizioni urliamo dai stai tossendo io vorrei vedere Boroboro e San Giovanni con Gilbert Nana e non ci sono più non li volevo vedere ok no ragazzi Gilbert meme morto levatelo Gilbert non muore mai fidatevi impossibile morire non mi è arrivato tutto è arrivato un'altra volta ragazzi punti di schermatio faremo punti di schermatio sub allora la live durerà non te ne pensavo cinque ore almeno ma è veramente impossibile ragazzi a quanto ci siamo? siamo due rosso rosso c'ha visto perché l'Italia è buona no? in Francia ci parla piano piano qui in Italia parla forte forte ci parla lì forte le francese ti mette fuori oh capisco? no fuori fuori tu? si ti mette chi? chi? le le bleu le bleu ok aspettaci ma arriviamo subito ciao ragazzi c'è un po' se Virginia sorridi sei fatto le corna infatti io l'avevo fatto così che non è vero scopo mi ha fatto le corna si schifoso porco diggielo diggielo quella porcaccio che non sai è arrivato un momento diggi quando si è scopato quella lì mi hai fatto le corna 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 ma dove si scopo una nuova il genere cosa faresti poi ma stai scherzando aspetta signor Gilbert comincia a uscire allora Gilbert rosso è ciù eh Gilbert anche la ragazza le volte a fare gas attenzione cos'è che da ogni tanto scorreggia con te si fa sempre caso Gilbert non ce lo faccio più no 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 tu fai caso io no lui sembra ci lo sai ci lo sai che quando una ragazza scorone posso posso puzzare cinque giorni una ragazza scorone una ragazza coronavirus può può durare cinque giorni alla ragazza nei maschi dura di più perché ti ha spavato la torre hanno spavato la torre no no hanno spinto tutta ieri non era spenta tutta attento attentata oh dai non ti ha spavato attenta oh attenta oh attenta oh attenta oh attenta oh lo spondo è bruttissimo da tutta la luce cioè siamo ad essere a Milano siamo ad essere a Milano ragazzi siamo a Milano infatti di due sono arrivati i napoletani sono arrivati i nostri amici eh perché c'è Gilbert senti sembra che si sta assagato